con i ciò cari giappolovers e benvenuti qui migliale sono come sempre giappogamer bene qui e benvenuti qui su medieval quest'oggi per un nuovo episodio siamo giunti all'episodio numero 18 di questo remake veramente incredibili e allora andiamo subito a vedere che cosa succede ok le rovine infestate abbiamo un po' quest'oggi nuovo episodio di medieval mamma mia ragazzi un remake incredibili cari giappolovers allora c'è che dice che il castello di re pellegrino abbia visto giorni migliori ma i demoni delle tenebre non sono d'accordo è molto più tranquillo senza tutti quei noiosi umani in giro e vabbè abbiamo un po' di che si tratta questo nuovo stage le rovine infestate sicuramente sarà un bel bordello già lo so perché si sta avvicinando alla fine questo medievolo eccoli qua i demoni delle tenebre ma hanno preso questi boraci ma facciano sotto le fiamme ma no cavolo ma che è ma queste pure galline ma che è leggiamo sono stati catturati dai demoni delle tenebre qui gli animali stanno morendo di fame ok la bisogna far muovere le galline vai andate mangiate mangiate vai beccate là beccate là qua tu che stai a fa va a mangiare va a mangiare ma no no di là tu che spia va andate voi tre ma no ma dove andate vai a mangiare a mangiare no mangiate ma tu che spia vai dai coraggio va a mangiare raggiungi le tue amiche mangiate vai mangia mangia coraggio va a mangiare ma non qua ma non qua è qua la mangiate là bravi mangiate lì beccate là beccate là bravi così mangiate mangiate tutto ok grandissime avete sblocato il punto di levatoio ottimo allora qua c'è un garguia benvenuto al castello pellegrino grazie ai tempi del re pellegrino questa magnifica costruzione era la sede del trono e la dimora di tutta la famiglia reale bene ora è abitato soltanto da fantasmi e da ricordi dimenticati ok allora andiamo un po' di passare per di qua leggiamo qua i contadini sono tenuti prigionieri nel cortile ecco i là ok andiamo accenno di guai i demoni delle tenebre li getteranno tra le fiamme svelto uccidi i demoni di guardia e libera i contadini ok vediamo un po' però ok qua c'è la runa del caos bene allora vogliamo un po' di prepararci un attimo a dovere arco ah si con l'infocchiato non abbiamo i dardi ok ma se li beccassimo all'alto vai così vai così vai così beccato beccato ok c'è qualcun altro cavolo mi abbiamo salvati però abbiamo a spengere le fiamme buoni tutti utilizziamo il martello va ok bene così vai così ok parliamo qua grandissimi vi ho salvato ah si è aperta qua la porta buoni tutti ma dove andate cavolo via un po' utilizziamo lo spadone come arma primaria ma di qua andate grazie per averci salvato prego prego perdonateci signore ma non abbiamo nessun maiale da darvi no non vi preoccupate accettate questi sassi dorati e lucenti in segno della nostra riconoscenza riconoscenza vediamo un po' eeeh vai di soldi bene ottimo così e ok allora vediamo un po' andiamo a per di qua ah no qua tocca mettere una runa della terra ok allora proseguiamo per di qua ci sono ancora loro bastardi maledetti e beccate di questo qua e crepa facci vostri oh 36% è intanto il calice e cavolo ci ha beccato in pieno ok ancora voi alle spalle no eh bastardi maledetti vai col 40% bene là c'è una runa vediamo un po' qua con garguglia allora ripariamo scudo d'oro non va riparato incantiamo la spada va poi vediamo un po' roba da lancio e quindi stanno a zero cavolo iniziamo a comprarli ok il lancio stanno bene bene così allora utilizziamo l'arco infuocato no ok e l'arco infuocato come si conta bene così vai vai con lo spadone allora qua ci abbiamo una fiala buona qua ne abbiamo un'altra e che caspita e crepa oh e vediamo un po' la cercare c'è giù un fondo allora vediamo un po' vediamo un po' da fare e che caspita e becca di questo e che vi siete alleati vi siete equalizzati tacci vostri oh vai di forziere e vai con lo scudo d'argento bene così bene così e passiamo per di qua la runa si ce l'abbiamo data bene e crepa gazzarola 61% e calo c'è un brustionato tempo fa questo luogo era la sala del trono di re pellegrino ora i suoi corridoi sono infestati da demoni ripugnanti lo spirito del re ne sarà sicuramente affranto ok vediamo un po' di entrare di qua a volte si può vedere il fantasma di re pellegrino vagare in queste sale si eh o sedersi tristemente sul trono trova la sua corona e forse riuscirai a invocarlo ok abbiamo trovato la corona mi sei toccata qua sotto eh c'ho sta vaga presentimento vai fagli di sotto bastardi dove si deve andare per di qua qua c'è un altro ok fatto fuori bene andiamo per di qua ok ok presa bene così ok ok e crepa calo saurotici dietro di noi e crepa e quanti siete qua 77% ok pego i soldi ma sento ringhiare qua mi chiaspia chi sta ma c'è qualcuno ma dove stai rau go esci fuori torniamo a resident evil qua vediamo un po' di passare forse per di qua ok stacci vostri maledetti bastardi tutti qua stavate e schioppate va ok 85% ecco perché sono di qua allora recuperiamo va recuperiamo le forze bene così anche la quinta ampolla ok bene proseguiamo tempo ah no ok questo abbiamo già letto ah ok si dobbiamo andare a parlare con re apriamo l'inventario becchiamo la corona e vediamo un po' forteschiù il più nobile dei miei cortigiani il più audace dei miei capitani oh com'è triste incontrarci in questa occasione adesso che il destino del regno è di nuovo nelle tue mani ma oddio forteschiù che hai fatto la guaggia eh è caduta oh sfortuna vecchio mio ascolta l'esercito dei demoni e delle tenebre di zaro che è nascosto in quella montagna e mentre noi stiamo qui a parlare si prepara ad invadere Gallomere per impedirglielo dobbiamo distruggere il castello in cima alla montagna e liberare la lava dietro le porte delle chiuse posso portarti alla leva che apre le porte ma dovrai azionarla da solo chi? io? ovviamente è una missione molto pericolosa anche per un uomo morto immagino che quando zaro che si accorgerà di ciò che hai fatto vorrà farti trascorrere l'eternità nel tormento più autonomo eh spero io no so che queste cose non hanno effetto su di un uomo della tua tempra vero forteschiù ok vediamo un po' dove ci catapulta qua ok e ma questi due grossi qua sinceramente non mi piacciono mi sa sembro dei golem vediamo un po' tanto prendiamo la roma della terra e azogniamo questa leva la lava è stata liberata il castello sta crollando porca la miser eh per sconfiggere il golem di pietra e fuggire dall'inferno che si scatenerà eeeh che cazzo eeeh si e vabbè tocca buttarli giù di sotto eeeh che caspita eeeh vai di ampolla vai e cadi giù di sotto oh che grandissimo vai che è andato uno è andato e cadi giù di sotto siii iata bene così tacci vostri tacci vostri e crepate vai 89% e crepate e crepa vai 93% bene c'è qualcun altro e cavolo e quanti caspia siete mortacci vostri 97% oh cavolo c'è cut down cavolo dove stava la runa cavolo cavolo ok azioniamo qui ok vai sir vai sir e ok iata bene così bene così allora eccoci qui tornati nella schermata principale di questo medievo ragazzi mamma mia che episodio 18 cari giappolovers che abbiamo affrontato insomma è stato un po' un casotto però insomma comunque ci siamo riusciti a portarlo a termine questo episodio e nesi episodio di medievo che spero che vi sia piaciuto se così foste invito a lasciarmi un like un commento una condivisione con vostri amici e amiche per far conoscere giappo game lungo e largo ovviamente vi aspetto nei miei vari social ripeto come sempre essere pagina facebook twitter instagram e canale telegram dove potete tranquillamente contattarmi se volete insomma potete farlo tramite i miei social mi potete seguire anche lì nei miei social basta scrivere giappogamer mi trovate agevolmente in più vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale mi raccordo attivare la campanella per rimanere a giornare i miei vari video e episodi su gaming giapponese a 360 gradi e in più vi invito anche sul mio blog personale che potete trovare su wordpress giappogamer.com punto blog mi raccomando sicuridimi anche lì e allora dal vostro giappogamer per il momento cari giappolovers è tutto matane e ai prossimi episodi e ai prossimi episodi